Buonasera e ben ritrovati a Club Napoli Night in anticipo dalla normale programmazione, ma perché? Perché domani sera si gioca contro il Barcellona al Maradona e noi insomma abbiamo usato un termine forte serve il miracolo anche perché oggi in conferenza con Spalletti si è parlato anche di Maradona dall'alto che dovrebbe aiutare il Napoli secondo mister Spalletti, ma sono tanti temi che affronteremo anche perché il Napoli solo due giorni fa ha pareggiato con il Cagliari, sembra lontanissima la sfida della partita con i Sardi invece incredibilmente sono soltanto due giorni fa il Napoli ha pareggiato forse perdendo una piccola occasione e se ne è riparlato anche oggi in conferenza dove c'era Di Lorenzo e proprio Spalletti e poi dopo la sfida con il Barcellona ci sarà la Lazio domenica, quindi i temi veramente sono tantissimi vi faremo sentire proprio Spalletti in alcuni momenti della conferenza, poi parleremo anche con due cari ospiti che saranno collegati con noi, apriremo le linee come di consueto 342 38 12 922 per quanto riguarda invece i messaggi potete già farlo adesso anche nella nostra diretta Facebook ma come sempre il club Napoli Night è aperto da Raffaele Auremma Ciao Francesco, tu pensi che domani sera se fossimo andati in onda non ci avrebbero visti? Penso di no, difficile stavano a vedere la partita e dopo neanche in chiaro hai visto anche in chiaro non solo sulle varie piattaforme ma sarà anche in chiaro anche perché sarà un Maradona strapieno con 75% di capienza quindi qualche altro biglietto è stato venduto proprio in queste ultime ore pare che veramente sia sold out, grande sfida contro il Barcellona però Raffaele facciamo un passettino indietro poi entriamo subito su quella che è la domanda che abbiamo lanciato anche nel nostro sondaggio se serve il miracolo, facciamo un passettino indietro di quello che è successo con il Cagliari perché i tifosi, ti dico la verità, nei nostri pomeriggi ma anche stasera nell'annuncio della diretta mi hanno detto peccato aver pareggiato con il Cagliari, peccato per quello che è successo noi abbiamo preparato una grafica che vedremo fra qualche istante ringraziando il nostro Davide in regia perché se lo sono fatti tutti questa domanda, perché il cambio di modulo? Eccola qua Sicuramente non lo so perché il cambio di modulo, l'allenatore Spalletti posso immaginare che lui adesso, non è che ha paura, però lui le calcola tutte le mosse perché lui sa che il Napoli può vincere lo scudetto Francesco perché al di là delle critiche e dell'amarezza dei tifosi di chi dice forse era meglio giocare con il modulo classico classico, sì come lo penso anch'io e altri dicono altre cose resta il dato di fatto che il Napoli è a due punti dal primo posto assolutamente quando siamo alla 26esima giornata ce la giochiamo ancora ora avrà sbagliato a fare il modulo a tre oppure ha fatto bene non lo sappiamo sappiamo che fortunatamente oltre il Napoli le altre non stanno facendo meglio questo è fondamentale siamo in tre a lottare per lo scudetto perché per tutti quelli che hanno il muso lungo come il tapiro io vi voglio ricordare che il Napoli è terzo in classifica virtualmente ma è secondo e voi avete dimenticato che ci sono altre 12 giornate tutte da giocare 12 giornate il Napoli può vincere lo scudetto perché le altre due non stanno facendo meglio del Napoli andatevi a vedere la classifica dell'anno solare sì il Napoli è primo quella che parte dal 6 gennaio sì la gara di ritorno la prima gara che sarebbe anche la giornata di ritorno prima di ritorno il Napoli è primo in classifica con 15 punti Francesco 15 punti su 21 vuol dire che il Napoli in sette partite ne ha persi sei ne ha persi sei che non sono pochi ma ne ha persi sei ma se il Napoli è primo in classifica avendo perso sei punti pensa alle altre che disastri hanno fatto il Milan ha fatto un punto in meno più dietro invece c'è l'Inter allora guardate a queste cose qui perché il Napoli è forte non si trova lì per caso non è una serie di combinazioni favorevoli che l'hanno portato lì il Napoli è forte e anche questo pareggio di Cagliari ma prendiamolo come una benedizione divina perché altre volte queste partite il Napoli le avrebbe perse perché le ha perse queste partite così e aggiungo che se Ospina non avesse fatto una bella dormita su quel tiro che definirlo tale offensivo per il tiro di Gaston Pereiro uno che calcia da fuori aria pallone che rimbalza in area di rigore e poi finisce in porta io queste cose qui le ho viste qualche volta forse nel campionato di prima categoria ma non in serie A Ospina ha letto male quella traiettoria e si è fatto fregare ma se non si fosse fatto fregare voi lo sapete che sotto sotto il Napoli l'avrebbe potuto vincere quella partita con la zuccata di Osimen messo al momento opportuno in campo perciò e anche su quello è vero che i due calciatori poi sentiamo proprio Spalletti cosa ha detto sul Cagliari perché ti ho preparato un inizio molto più dedicato al Cagliari perché ripeto molti nostri tifosi ci hanno chiesto di parlarne un attimo con te mi dici se partivano Osimene e Fabian dall'inizio ma no Francesco sai perché? perché sono due calciatori che lunedì avevano nelle gambe 30 minuti massimo di partita assolutamente allora che fai? te li giochi subito e poi li cambi alla mezz'ora? no te li tieni con il rischio di produrre loro infortuni più seri di quelli dai quali stavano uscendo e fortunatamente ne sono usciti quindi io lo so che questa domanda l'hanno fatta però tu hai voglia io sto rispondendo da martedì su queste ragioni perché Fabian Ruiz era reduce da un indurimento muscolare e con i muscoli bisogna andare sempre calci due aveva in corpo l'antibiotico che gli era stato somministrato dal medico sociale in seguito a quella ferita suturata con 9 punti 9 punti nella gara d'andata contro il Barcellona e non poteva giocare tutta la partita Osimel con quel gonfiore al ginocchio gli hanno anche dicono estratto il liquido perché si fa no? si fa si che fa? il rischio Osimel tutta la partita e poi lo perdi magari per due mesi no no infatti sulle scelte dei cambi questa volta io sono d'accordo sul modulo no io non avrei giocato così ma non è detto che giocando diversamente poi la vincita ma noi lo possiamo sapere non lo possiamo sapere allora vediamo questo primo stralcio abbiamo due passaggi di Spalletti dove si è toccato in tutta la conferenza si è parlato tanto della partita con il Cagliari però ci sono stati due momenti in cui si è parlato di Cagliari che abbiamo sottolineato allora vediamo il primo dei filmati proprio sulle rotazioni vai gli obiettivi nostri sono quelli di avere poi una squadra che che voglia rimanere nel impressa nelle nelle menti dei nostri dei nostri sportivi per quello che è l'atteggiamento che si senta in campo come l'espressione della sua gente perché se si pensa a quella che è il desiderio la volontà bisogna assomigliare a questo desiderio e la volontà dei nostri numerosi sportivi e poi mi diceva delle rotazioni me lo dica che rotazioni dovevo fare a Cagliari quali sono le rotazioni e le allusioni delle pretattiche che che io faccio quali sono nessuna domani uguale quale rotazione si fa a centro campo si può vedere davanti però è chiaro che poi bisogna avere un equilibrio essendo contro il Barcellona per cui bisogna tenere presente le sostituzioni perché se un calciatore viene da un infortunio dove è stato tre o quattro partite fuori poi diventa pericoloso farlo ripartire titolare una partita subito successiva a rientro Allora gli chiedono delle rotazioni lui ha detto che cosa potevo fare a Cagliari non avrei potuto farne altre di rotazioni e anche adesso con il Barcellona posso fare un po' di cambi avanti però a centro campo di necessità virtù ce ne sono due quindi insomma è uno spalletti come dicevi tu Raffaele dice a Cagliari più di quello non si poteva fare forse questo spiega di quella scelta del modulo per avere un centro campo dove abbiamo inserito Di Lorenzo che poi purtroppo è uscito e Mario io avrei fatto una scelta analoga probabilmente ancora più conservativa con il 4-2-3-1 perché avrei messo sicuramente Malquitt largo a destra alto con Elmas dall'altro lato così avevi due calciatori che hanno nelle loro caratteristiche quella della copertura con Mertens e Petagna due punte che hanno funzionato poco devo essere sincero perché Petagna gioca a spalle alla porta non è il bomber Petagna è uno che ti aiuta a segnare i gol e poi li segna anche lui perché il golletto è importante Mertens l'ho visto un po' giù di corda vuoi dire giù di corda diciamo giù di corda è un calciatore che ha anche la sua età se noi ci aspettiamo di vedere sempre il Mertens guizzante e bomber con Sarri amici il tempo passa per tutti è vero è vero allora prima di farti sentire questo passaggio però poiché ha parlato Savi e dopo ti faccio una domanda che insomma sta girando anche sui social sulla questione Messi Maradona ma è vecchia ormai come il mondo come Pelé Maradona al Maradona stadio in questo caso a seguire la conferenza di Xavi e vedere l'allenamento anche dopo vedremo un po' di immagini dell'allenamento c'è il nostro collega Alberto Caccia che dovrebbe essere collegato se mi date la conferma allora sentiamo Alberto dal Maradona Alberto a te la linea sì eccoci qua eccoci qua buonasera Francesco ciao Raffaele buonasera a tutti i nostri telespettatori dall'esterno del Diego Armando Maradona sì è stata una conferenza ricca di spunti alcuni anche inaspettati se così vogliamo dire quella di Ter Stegen e soprattutto di Xavi ovviamente l'obiettivo dichiarato quello del Barca è di andare il più avanti possibile e vincere un Europa League che è una competizione che ovviamente non è nelle corde dell'ultimo Barcellona però ovviamente in questo momento storico per loro è sicuramente un ottimo un ottimo pannicello caldo su una situazione storica che in questo momento è lieve discesa per un club che comunque resta il più importante del mondo così come recitano anche con quella scritta i sediolini del Camp Nou ottime le parole di Xavi anche nei confronti del Napoli una squadra che dice da rispettare una squadra importante una squadra che sta lottando per il campionato a differenza nostra lo ha sottolineato più volte e ha parlato di grande squadra grande club quindi sotto questo aspetto davvero importante la dichiarazione le dichiarazioni del tecnico spagnolo importanti anche dichiarazioni forse un po' a sorpresa quella di Ter Segen per quanto riguarda il collega Alex Meret in un breve passaggio parlando della gara di giovedì ha detto testualmente che il Napoli giovedì ha avuto un super portiere quindi questa una vera e propria incoronazione da parte del portiere tedesco nei confronti del portiere che domani salvo cambiamenti dell'ultima ora di spalletti ma non credo sarà il titolare nuovamente in Europa League per difendere la porta azzurra belle parole dicavi nei confronti del Napoli ma al tempo stesso la sensazione è che sono veramente convinti di vincere questa gara e questa cosa se ti devo dire la verità mi fa piacere perché talvolta la troppa convinzione può portare fuori strada diciamo così quindi può essere un'arma che può girarsi a favore del Napoli Alberto ma come ti è parso Xavi come lo hai visto? mi ha fatto un'ottima impressione non l'avevo mai ascoltato dal vivo e ti devo dire la verità in conferenza non avevo mai avuto opportunità se non quella dell'andata un ex grande campione che è diventato subito allenatore si è calato benissimo nella mentalità e anche durante l'allenamento quel breve quarto d'ora che a noi giornalisti è concesso abbiamo visto ho visto un allenatore veramente pronto non uno di quelli improvvisati o comunque davvero agli inizi quindi sotto questo aspetto secondo me diventerà davvero un grande allenatore forse già lo è ovviamente la carriera è all'inizio però mi ha colpito davvero davvero tanto passaggio anche per quanto riguarda la cantera del Barcellona rispetto a quella del Napoli interessante ha detto per noi formare giovani è qualcosa di fondamentale il club è abituato in questa maniera e quindi continueremo a farlo non so perché il Napoli non lo fa non segue le dinamiche azzurre però ha sottolineato questa importanza detto questo ci aspettiamo ovviamente un grande Napoli e soprattutto mi aspetto un Barcellona che magari ribadisco nella troppa convinzione riesca a fare qualcosa di importante per noi ciao Francesco grazie 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 ad Alberto Caccia dalla Maradona dopo vedremo anche un po' di immagini che ci ha inviato proprio Alberto dell'allenamento della formazione Blaugrana Raffaele è chiaro che Savi come tutti gli allenatori parlano sempre molto bene del Napoli belle le parole di Ter Stegen verso Meret l'ha chiamato porteraso proprio in spagnolo portierone esatto portierone e queste sono sono belle cose fondamentalmente c'è rispetto per la nostra squadra intanto noi però già abbiamo un ospite quindi poi ti faccio rispondere poi lo salutiamo perché abbiamo già in collegamento Massimiliano Esposito Max dovremo averlo mi hanno dato l'ok dalla regia eccolo eccolo buonasera ciao Max ciao ciao hai sentito belle parole anche da Savi per questo Napoli anche da Ter Stegen per il buon Meret Raffaele e poi sentiamo anche Massimiliano cosa ne pensa sia della partita con il Cagliari che la partita con il Barcellona non ci hanno regalato nulla stanno semplicemente testimoniando quello che tutta Europa vede un Napoli di altissima qualità con un gioco che è un po' la sintesi del Napoli degli ultimi anni ebbene Spalletti ha forgiato questa formazione in tutti i 20 elementi di cui dispone e tra l'altro è una è l'unica squadra che non so da quanti anni credo 10 anni a questa parte frequenta l'Europa consecutivamente quindi il Barcellona non ci sta regalando niente anzi questo è un problema per il Napoli perché loro sanno che per andare agli ottavi dovranno disputare una super partita non solo il Napoli dovrà fare la super gara la dovrà fare anche il Barcellona perché sono troppo esperti per cadere nella trappola di credere che il Napoli vero sia quello visto lunedì a Cagliari e stiamo vedendo un po' di immagini che ci sono arrivate da Alberto Caccia dal Maradona Massimiliano allora hai sentito Raffaele su quelle che sono le situazioni legate al Barcellona ma io ti chiamo a fare un passo indietro alla partita con il Cagliari secondo te che cosa è successo a Cagliari? beh innanzitutto bisogna sottolineare un Napoli ridimensionato dagli infortuni quindi dopo dieci minuti si è anche fatto male di Lorenzo che nel modulo con cui aveva iniziato Spalletti contro il Cagliari quindi questo 3-5-2 è ovvio che la spinta sua sulla fascia poteva essere determinante è venuto a mancare dopo pochi minuti e quindi si è complicato ulteriormente tutto d'altro canto bisogna dire anche che bisogna dare merito a Cagliari che ha giocato per almeno 60-70 minuti con un'intensità altissima con un pressing asfissiante e ha messo in difficoltà tanto il Napoli che addirittura almeno per quello che ho visto io non è riuscito a palleggiare che è una delle caratteristiche di questo Napoli e non solo di Spalletti quando il Cagliari è calato poi dopo è venuto fuori il Napoli negli ultimi 10-15 minuti è riuscito ad arrivare al pareggio però secondo me poi ecco lì mancavano un po' le forze per fare quel sacrificio in più per cercare anche la vittoria se l'hanno ricercata con qualche pallone lungo su Osimena ma il Cagliari a quel punto lì si era chiuso bene diciamo che non sarà come diceva Raffaele il Napoli di Cagliari sicuramente non sarà quello contro il Barcellona le motivazioni sono completamente diverse sono partite che si preparano da sole e inizia a pensare già qualche settimana prima quindi secondo me più di qualche giocatore è sceso in campo a Cagliari pensando già al Barcellona Spalletti oggi ha detto anche della voglia ha ragione ha ragione secondo te Raffaele bisogna dire anche questo perché a volte noi non ci crediamo o pensiamo che i calciatori veramente guardino la gara del momento e non quella successiva io sono dell'avviso che qualche calciatore stava già con la testa al Barcellona e qualcun altro ha avvertito qualche dolorino un po' più forte perché magari sperava non gli venisse contro il Barcellona certo infatti ce l'hai una domanda sicuramente per Massimiliano dai no ma domanda è a Massimiliano innanzitutto a maggio questo ragazzo compie gli anni ed è una cifra importante fai attenzione che mi stai raggiungendo è vero è vero a maggio no no ti rispetto lascio andare sempre a te avanti ecco qua ecco qua però devi sapere che questo signore ha segnato un gol al Cagliari lo sai nella sua carriera si me lo ricordo bene tu te lo ricordi bene Massimiliano il gol che segnasti al Cagliari ricordo me lo ricordo nel vecchio San Paolo con un calcio di rigore esatto se lo ricordo dai il calcio di rigore è partita finita 1 a 1 ma detto questo Massimiliano tu sai che Napoli è una piazza molto particolare soprattutto perché reduce dalle delusioni che partono proprio dal periodo in cui tu capitaste a Napoli dopo qualche anno la squadra anzi la società fallì allora credo che molti tifosi non si siano mai riavuti da quello shock e non riescono a vedere il bene neanche quando ce l'hanno cioè io sento solo critiche rispetto a sfumature ma nella sostanza non si sono accorti forse da un lato probabilmente è meglio che il Napoli può veramente vincere lo scudetto quest'anno perché perché lì ha due punti dalla vetta e le avversarie non sono così più forti del Napoli caro Massimiliano io non so tu cosa ne pensi ma la vedo così ma guarda io sono pienamente d'accordo con te anche in altre occasioni in altre interviste ho sottolineato proprio questo aspetto che hai detto tu ci sta che noi Napoletani da una parte non abbiamo la via di mezzo o va tutto bene o va tutto male bravo dall'altra siamo grandi sognatori e quindi viviamo in maniera anche molto molto passionale questa questa vittoria di questo scudetto che ovviamente a Napoli manca da da tantissimi anni e questo ovviamente ti fa perdere di vista quello che il Napoli effettivamente come dicevi tu Raffaele sta facendo perché comunque parliamo di un Napoli che ha 54 punti e secondo in classifica sta disputando secondo me un campionato bellissimo ha una rosa secondo me molto completa in tutti i reparti ha un allenatore esperto che sta gestendo delle situazioni difficilissime in maniera secondo me veramente esemplare il campionato è ancora lungo è vero che adesso c'è un altro crocevia che può dire la sua sul campionato del Napoli che sicuramente è la partita del Barcellona contro il Barcellona se si dovesse passare il turno ti darebbe quell'entusiasmo quella carica in più per affrontare poi dopo le successive partite di campionato contro contro Lazio e Milan che sono entrambe determinanti sempre per la corsa Scudetto eh sì quello è fondamentale domani serve il miracolo come abbiamo titolato noi chiedendolo ai tifosi è chiaro che domani è una partita che può avere tantissime sfaccettature come la vedi che ne pensi di Savi che ha detto che Messi è più forte di Maradona ma io non credo serva il miracolo anche perché Napoli ha dimostrato anche l'inspagna di giocarsi la partita e ha dimostrato il proprio valore io credo che comunque da parte del Barcellona dello stesso Savi ci sia rispetto per questo Napoli non dico timore ma rispetto sicuramente quindi non mi aspetto un Barcellona Spavaldo come poteva essere il Barcellona ecco appunto di Messi mi aspetto un Barcellona soprattutto nei primi minuti a corto e forse lì il Napoli deve essere bravo a partire subito con la marcia giusta per per metterli in difficoltà per quanto riguarda il discorso Messi Maradona se ne dicono tante lasciamogli lasciamogli questa convinzione a Savi ma sappiamo benissimo che la verità è tutt'altra ma anche perché il Barcellona ha celebrato Maradona oggi si bellissima quella pubblicata quella quella grafica su Instagram molto bella con l'aggettivo immortale esatto ma vuoi che il Barcellona veramente creda che Messi quindi è una provocazione ma no è una difesa del territorio perché lui ha giocato con Messi e chiaramente deve dire questo ma lui per primo essendo un calciatore è stato uno dei più forti tra i centrocampisti della storia del calcio non può non sapere che Maradona non è che è più forte di Messi ma è più forte di tutti nella storia del calcio vuoi salutare Massimiliano sempre con grande piacere erano belli i tempi anche da anche da quando venivo a casa tu a Mater Dei però ci siamo fatti vecchi ormai ci siamo fatti vecchi però nulla ci vieta quando verrò a Napoli di rivederci ci andiamo a mandare una bella cosa grande Massimiliano grazie per la tua disponibilità è sempre un piacere grazie 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 a voi dell'invito grazie ancora a Massimiliano Esposito allora Raffaele questo è un altro questo era il calcio questo è un bel calcio questo era il calcio perché c'era il lato umano che ora non esiste più ma non esiste proprio più guarda non esiste proprio più non si può parlare con nessuno non si può vedere nessuno allora prima di chiudere la prima parte ti voglio far vedere quest'altro minutino degli spalletti dove lui dice una cosa ti lascio l'interpretazione io ne ho fatta una mia però voglio sentire la tua è uno spalletti che punzecchia qualcuno come dicevamo anche prima sulla voglia proprio del tipo di partita che è stata con il Cagliari eccolo si cerca di mettere in campo una squadra che abbia un po' in equilibrio poi sbagliando spesso perché quello che è bravo è quello che sbaglia di me la lezione che abbiamo ricevuto è quella che sono le cose che metteremo in campo che faranno vedere a tutte quelle tv a tutte quelle persone che ci guardano anche da lì allo stadio quanto per noi è importante questa vittoria è il modo in cui ci comporteremo dentro dentro la partita che farà vedere quanto sarà importante sicuramente quella di Cagliari ha fatto vedere che c'è stata più fame di salvezza che non più fame di lotta per lo scudetto perché la partita ha detto questo qui ora vediamo la prossima e valuteremo poi se queste partite da sogno come diciamo me le abbiamo sottolineate o intitolate precedentemente sono in realtà le partite che aspettiamo fin dal momento che abbiamo avuto il primo pallone per giocare da bambini ecco incastonata nel discorso Barcellona voglia fame di salvezza più di fame voglia di scudetto ha bacchettato qualcuno? non è che ha bacchettato io mi auguro che la sua sia stata una provocazione perché sentir dire dall'allenatore di una squadra che è seconda in classifica che la sua squadra in una partita non ha avuto voglia di vincere lo scudetto sarebbe scusatemi molto grave molto grave allora io la voglio prendere come una provocazione che Spalletti ha fatto alla sua squadra che non ha risposto così come ci si aspettava in una gara che probabilmente ripeto si sarebbe pareggiato lo stesso pure se l'avessi giocata al massimo delle tue energie perché il Cagliari non merita di stare laggiù è una squadra molto forte con un allenatore molto bravo che ha rigenerato tanti calciatori il primo Grassi che mi è piaciuto molto il ruolo di Plemaker nel centrocampo a 5 e poi Baselli che ha fatto la differenza anche quando è entrato quindi il Cagliari è una squadra da centro classifica non certamente la zona di retrocessione quindi pur giocando con la voglia e la fame di scudetto probabilmente non la vincevi la partita però detta dall'allenatore allora scusami Francesco io poi vi chiedo perché certe domande chi è presente nella conferenza stampa non le rivolge al tecnico io fossi stato lì gli avrei chiesto in maniera molto educata rispetto a questa osservazione ma non è che avendo fatto una formazione con un modulo inedito perché il Napoli era partito mi pare solo contro l'Atalanta con la difesa a tre non è che lui ha trasmesso inconsciamente un messaggio cioè non perdiamo i calciatori sono fragili mentalmente se tu giochi così gli lanci anche un messaggio di un atteggiamento conservativo cioè difendiamo lo 0 a 0 poi proviamo a vincere che ci può stare io non dico che ha sbagliato il tecnico però bisogna capire poi questo messaggio a chi lo vai a mandare quali sono i calciatori che ricevono questo messaggio gli stessi che negli ultimi anni nei momenti cardine sono venuti e allora se tu sai che la tua squadra su certi input reagisce così allora perché altrimenti un'altra squadra che non reagisce così contro l'Empoli e lo Spezzi non avrebbe perso al massimo avrebbe pareggiato però in quelle due partite mi dispiace dirlo non c'era Osimena perché anche ieri senza Osimena anche lunedì senza Osimena il Napoli per me avrebbe perso infatti tantissimi messaggi dopo li leggerò caro Raffaele ci sono tante domande anche per te ne faremo diverse però abbiamo da sentire ancora qualcosina abbiamo da sentire un altro amico ospite allora facciamo così andiamo in pubblicità e torniamo un altro amico un altro amico Union Security, garantisce da sempre la tua sicurezza. Scegliere il mood giusto per la casa o per l'attività è importante, così come dotarla di tecnologie avanzate e proteggerla con un buon sistema di videosorveglianza. La soluzione è Reteo. Pensiamo a tutto noi. Preventivo, installazione e certificazione. Sicurezza, domotica, audiodiffusione, illuminazione e videocitofonia. Siamo a Giuliano in via Cataste numero 4. Entra in contatto con noi su www.reteo.it Abbiamo creduto in un progetto e lo portiamo avanti da più di 20 anni. Grazie alla fiducia della nostra clientela e alla cura dei particolari, non perdendo mai di vista la qualità. Prodotto per prodotto, reparto per reparto. Selezioniamo salumi, carni, frutta, per portare nelle vostre case solo il meglio. I supermercati Topo Affiliati MD li trovi a Qualiano in via Antica Consolare Campana, con girarrosto e pane caldo sfornato a tutte le ore, a Giuliano in via Marchesella e nel centro storico Indico Pozzo, a Muniano con una cucina attrezzata per la preparazione di piatti pronti e a Marano con la nuova apertura in corso Italia. MD Topo. Nessuno come noi. Club Napoli Night di mercoledì perché domani c'è il match con il Barcellona alle 21, normale domani l'appuntamento pre-partita e post-partita. Poi con Raffaele Auriemma e con Club Napoli Night ci rivedremo giovedì prossimo regolarmente. Allora, cambiamo pagina, abbiamo parlato un po' del Cagliari perché tanti amici tifosi ci avevano scritto al 342 38 12 922 anche sulla nostra diretta Facebook perché volevano parlare ancora un po' di Cagliari. Adesso cambiamo pagina, sai come lo facciamo? Con il nostro Francesco Mennillo. Ah, è lui. Sì, che è andato in giro, camminando sempre. E voi lo pagate per questo. Esatto, vediamo. Francesco e Raffaele, buonasera. E insomma, domani si gioca Napoli-Barcellona al Maradona. Finì 1-1 all'andata, ma ora ci sarà il dodicesimo giocatore in campo, i tifosi. Come si comporterà il Napoli in questo match fondamentale? Lo abbiamo chiesto ai napoletani. La vedo una squadra incerta. Si comporta, spero bene, però dobbiamo fare i conti con gli infortuni. Si comporterà benissimo come si è comportato a Barcellona. È una partita difficile, il problema che ha in fortuna è una partita difficile. Spero che Napoli riesca a passare il turno, cosa che vedo molto difficile perché Barcellona da quando ha avuto i Nessi 9 a gennaio sta giocando molto meglio. Ogni volta che andiamo in campo dico, maronna mia, facciamo anno buono. Poi Barcellona per il gran completo sarà più in forma di noi. Sicuramente faremo una grandissima partita, almeno lo spero. Non è scontato, Barcellona non c'è esperienza, però ci hanno avuto l'impegno. Spero, sono positivo, guarda, spero che il Napoli passi. Non è la squadra che mi dà certezza. Non si deve sbilanciare il Napoli in attacco, deve fare una partita molto, ma molto accorta e intelligente. Può capitare tutto. Spera di cristallo il signore ancora non ce l'ha, però la vorrebbe per poi giocare il risultato esatto. Allora, hai sentito, insomma, i tifosi sono sempre spettacolari, i tifosi del Napoli. Antonio da Casalnuovo ti chiede, ci fai complimenti, ti chiede al grande Raffaele, il Napoli deve fare una partenza attendistica o aggredirli subito e poi dice vi saluto con un si gonfia la rete. Antonio da Casalnuovo, come dovrebbe approcciare secondo te il Napoli? Certamente non attendistica perché altrimenti rischi di trovare il nemico a casa dal primo momento. Quindi finché puoi te la giochi, tieni testa, poi loro hanno questa qualità, tenere il come tra i piedi e senza andare di fretta perché sanno che è difficile entrare nell'area di rigore del Napoli che è la miglior difesa del campionato italiano e della terza d'Europa. Quindi io credo che sarà una partita un tantino diversa rispetto all'andata, anche perché il Napoli recupera qualche calciatore al meglio, ci sarà di nuovo Insigne. Sì, dopo sentiremo proprio questo passaggio. Fabian Ruiz, non credo che giocherà Politano dal primo minuto. Non gioca Politano. Secondo me. Allora, possibile batterli ma serve una buona condizione fisica ai giocatori giusti, si scrive Michele da Casal di Principe. Giacomo da Somma, saluto al mitico si gonfia la rete, ce la giochiamo con calma perché anche se non stanno in campione di una volta, loro sono bravi col possesso e palla. E poi, pressati per recuperare subito, come dicono loro, la pelota sarà molto bella. Salutiamo Umberto da Soccavo che ti chiede chi può essere il giocatore più importante della sfida di domani. Già, subito ti fanno domani. Chiunque. Io punto sempre su Victor Rosimann perché lui gradualmente sta dimostrando chi è e che in pochi conosco, perché lo abbiamo visto a Sprazi, a Napoli. Io sono pronto a scommettere che nel giro di due anni Osimann diventerà uno tra i primi tre attaccanti d'Europa. Calciatore con delle caratteristiche uniche, con delle doti atletiche straordinarie e con un'aggressività come ne vedo pochi negli attaccanti. E allora abbiamo sentito ancora Spalletti, abbiamo preso un altro stralcio proprio dove ci dice che ha recuperato dei calciatori ed altri saranno pronti a scendere in campo. Tra questi, come diceva prima Raffaele, Lorenzo insigna il capitano che torna proprio con il Barcellona. Sentiamo. In questo momento qui tante rotazioni non le possiamo fare perché non c'è tempo per recuperare da tutte le parti. Non c'è tempo e ormai in questo calcio così forte, al di là dell'essere attrezzati come società, perché poi in una partita si può buttare via molto, un risultato di una partita si può buttare via molto, bisogna reagire, bisogna essere reattivi, bisogna essere teste solide, teste forti, teste pensanti. È una nota buona anche aver recuperato Politano, una nota buona che non abbia avuto complicazioni nel ginocchio Simen, è una nota buona che Fabian Ruiz non si sia complicata poi l'indurimento muscolare che aveva, per cui noi ne usciamo sicuramente rafforzati in generale da quella che è stata la trasferta di Cagliari. Poi anche lì qualcosa è successo perché è una nota buona che di Lorenzo poi si sia scongiurato quello che è stato il colpo alla testa, si ha la possibilità di mettere in campo una squadra forte e di avere delle sostituzioni che possono dare un aiuto ai calciatori che scenderanno in campo. Lorenzo partirà dall'inizio a quel livello di personalità, a quel livello di qualità calcistica per direzionare anche il risultato di una gara così equilibrata e così importante. Quindi recuperato Lorenzo Insigne, abbiamo detto di Fabian, come dicevi tu, Politano recuperabile, insomma dovrebbe essere arruolabile, però potrebbe non giocare al primo minuto. Chi gioca quindi da quel lato? Il passaggio della conferenza stampa nella quale Spalletti dice preferisco non rischiare al primo minuto i calciatori che hanno avuto un problema muscolare, l'unico che rientra dopo questo problema muscolare è proprio Politano, quindi immagino che giochi al massa a destra e insigne a sinistra. Congilischi nuovamente alle spalle di Simen. Allora, ciao direttore, è Antonio Dacquarto, non si discute il campionato del Napoli, quello che lascia perplesso è se si vuole arrivare nelle prime quattro, va tutto benissimo, ma come disse Benitez, e per arrivare primi è che bisogna fare qualcosa di speciale, e di speciale con il Cagliari c'è stata una partita più brutta della stagione, con una voglia di vincere lo scudetto che sprizzava da tutti i pori, lo ha detto anche Spalletti proprio su quel passaggio che avete fatto vedere. Non so per colpa di chi, ma il Napoli di De Laurentiis è come quando ti siedi a tavola, mangi a volte pure bene, ma da tavola sazio non ti alzi mai. vi saluto con affetto Antonio Dacquarto. Che rispondete Antonio? Che risponde, dai, io veramente a volte vedo un accanimento nei confronti di De Laurentiis a prescindere. A prescindere? A prescindere, è come se fosse un mantra, noi dobbiamo dire qualcosa contro De Laurentiis. Io credo che De Laurentiis abbia tantissimi difetti e chi è che glieli nega, però ha il grande pregio di gestire un club come pochi altri sanno fare. Se voi pensate che il Napoli può permettersi il lusso di fare 400 milioni di debiti come ha fatto la Juve o 300 come il Milan e 200 come l'Inter, scordatevelo perché ci fanno fallire un istante dopo. Il Napoli deve camminare sempre sul filo del centesimo, non può sgarrare. E non mi pare che in questi anni ci saranno squadre che devono ristrutturarsi, anche la quale, stagione nel corso della quale il Napoli dimostrò di meritarlo quello scudetto e qualche mese dopo il fattaccio di Inter Juve, De Laurentiis disse candidamente che quello scudetto al Napoli lo avevano scippato. Ora, se voi ripensate a quella squadra, era il 2018, oggi siamo nel 2022, mi ricordate quanti calciatori ci sono di quella squadra? Titolari nel Napoli, te lo ricordi tu Francesco? Insigne e Coulibaly. E Coulibaly. Zelischi no? Non era titolare. Non era titolare, sì. Quindi Coulibaly e Insigne. Cioè il Napoli si è già ristrutturato ed è ancora in lotta per lo scudetto. Cioè voglio dire, se non è una gestione oculata questa qui, ditemi qual è, dopo quattro anni da uno scudetto praticamente acciuffato, squadra rinnovata e Napoli ancora in lotta per lo scudetto. Vuol dire che a Napoli il calcio lo sanno fare molto bene. Lo sappiamo fare ancora. Allora, mi arriva il messaggio di Pasquale che dice con Meret in porta possiamo battere chiunque, dice io adoro Meret, forza Meret e mi dà lo spunto, chiedo veni alla regia perché stravolgiamo un attimino la scaletta perché avevamo preparato per dopo questo passaggio di Spalletti su Spina e qua però ti faccio una domanda, Raffaele, ascolta lui come... te lo ricordi c'è ancora, no ascolta come risponde in maniera un po' piccata, era un po' nervosetto oggi Spalletti alla conferenza, tu l'hai seguita sicuramente. Ma questo è un difetto di Spalletti, quando c'è qualcosa che non va bene lui si nervosica. Guarda, ha risposto al collega di Espen che poi è una persona che ha fatto le domande giustamente per quello che è il bacino di utenza tra Lozzano e via dicendo, guardate cosa chiede il collega di Ospina, dicevo il collega di Espen chiede di su Ospina e Spalletti guardate come risponde? Ospina lei lo vorrebbe titolare? Sì, ma se devo essere sincero io è che lei non ha visto le partite perché è sempre stato titolare, per cui se le guarda si accorge che è titolare, oppure per lei essere titolare vuol dire farlo giocare titolare anche in allenamento, titolare quando è a casa, titolare quando non lo vediamo perché se no lui ha sempre giocato titolare, è stato infortunato qualche partita e non ha giocato, competizioni europee le ha giocate Meret, è una scelta che si fa, nessuna confusione, nessuna difficoltà, lui deve dall'alto della sua esperienza all'alto della sua qualità, deve far vedere il suo valore quando è chiamato a giocare, come Meret. Spalletti ci dice che domani gioca Meret, però hai visto la risposta un po' piccata su quella cosa... Ho detto, è un difetto, nessuno è perfetto, quindi lui ha questo difetto, ma non ci trovo niente di particolare, non ne farei un caso. No, 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 un caso no, però era il fatto per farti capire che era un po' arrabbiatuccio, io ero lì oggi... Non darsi pure che sia teso. Un po' teso, ecco, un po' teso sulla partita. Non ci sia arrabbiato e teso, perché Spalletti si rende conto che questa è la fase cruciale della stagione. Queste due o tre partite, Barcellona, Lazio, Milan, se le fai bene voli, se non le fai bene poi cominciano le domande e anche le critiche. Infatti, infatti. Allora, noi lo chiamiamo sempre quando ce n'è bisogno, perché ce n'è bisogno veramente, ma insomma domani una mezz'oretta, io lo ribadisco, secondo me una mezz'oretta la può fare, la può fare assolutamente Raffaele. Nicola Mora, Nicola Mora collegato, eccolo. Buonasera. Ma stai giocando? Si stai allenando per giocare? Tu mi vuoi troppo bene, però io ti do conferma che tutte le sere mi alleno. Guardalo, guardalo Raffaele, guardalo. Ma lui domani è pronto. Una mezz'oretta, dai, una mezz'oretta. Lo sai, per il Napoli siamo sempre pronti, io sono sempre pronto. Che grande Nicola, eh Raffaele. Però è vero che noi lo vorremmo in campo, Nicola, però noi dobbiamo dare merito a Mario Rui, che anche a Cagliari è stato il migliore in campo del Napoli. E con l'assist goal, diciamo. Mario Rui a Cagliari è stato il migliore in campo del Napoli, è l'unico che ha combattuto Non solo a Cagliari, Raffaele, è un giocatore che è stato spesso bistrattato, invece con Spalletti ha trovato, secondo me, una grande autostima nei propri mezzi e sta facendo veramente un campionato sopra le righe, come affidabilità e come continuità di rendimento. Quindi dicevi giustamente te, diamo merito a questo ragazzo che sta facendo veramente grandi cose e anche per merito suo siamo rimasti in corsa per il campionato, perché qualora avessimo perso a Cagliari, veramente, non so di cosa diremmo oggi. Guarda, sai cosa mi dispiace? Da parte di alcuni tifosi del Napoli che, come diciamo noi, e credo che il termine l'abbia imparato pure Nicola, prendono la cosiddetta ansiria nei confronti di qualcuno. Ora è il turno di Mario Rui, perché quando Mario Rui sbaglia una cosa nell'ambito di una partita giocata bene, lo massacrano senza pietà e senza possibilità di appello, no? Condanna a morte. Quando invece gioca la partita da migliore in campo, io non sento nessuno di questi che lo massacra, che dice guardate, a me Mario Rui non piace, per me è un giocatore scarso, però devo essere sincero, oggi ha fatto una grande partita. No, cala il silenzio. E' proprio così, è vero Nicola, su quello, insomma, c'è sempre qualcuno che è pronto a bacchettare Mario Rui, ma a difenderlo. Ti chiedo anche di Goulam, oggi non so se hai sentito la conferenza, c'è stata una domanda su Goulam da parte di un commentatore spagnolo che era proprio di fianco a me, che ha fatto una domanda a Luciano Spalletti, dicendo come mai non è riuscito a rinvigorire Goulam dopo le buone cose che ha fatto con Lobotka, con Rachmani e via dicendo. Lui si è preso un po' la colpa, dicendo è colpa mia, spero di dargli più spazio in questa seconda parte del campionato. Ma questo ce l'auguriamo, abbiamo detto che nelle tre partite che ha fatto consecutivi nel momento di estrema difficoltà del Napoli ha dimostrato di essere di nuovo un giocatore su cui poter fare affidamento. Se poi l'allenatore mette in discussione che è colpa sua se non lo impiega di più, io credo che un allenatore metta sempre in campo la miglior formazione. In questo momento Goulam è stato ritenuto in grado di giocare qualora ce ne fosse realmente a necessità. Invece quando c'è la possibilità di poter scegliere abbiamo visto che si è scelto sempre l'affidabilità di Mario Rui e addirittura a Barcellona lo slittamento di Juan Jesus sulla sinistra. Collegandomi al discorso di prima ha detto benissimo Raffaele che questo ambiente è sempre pronto a criticare e mai dare merito a chi veramente ne ha bisogno. Io mi auguro che questo ambiente non critichi in questo momento delicato la squadra perché la squadra rimane una squadra forte, una squadra in lotta per il campionato e non dare merito a questi ragazzi. Sentivo prima il ragionamento di Raffaele che questa squadra in quattro anni è cambiata per nove undicesimi ed è rimasta di nuovo competitiva. Credo che grande merito vada dato sicuramente alla società ma sicuramente ai ragazzi che hanno fatto quelli nuovi, si sono ambientati subito e a un modus operandi della squadra e soprattutto con l'arrivo di Spalletti che stanno i propri frutti. Quindi credo che chi vuole bene veramente a Napoli in questo momento può essere sicuramente deluso dal risultato solo finale di Cagliari però la squadra ha sbagliato veramente i pochi passaggi ma per come maturato il risultato bisogna essere orgogliosi e fieri di aver portato a casa un punto da un campo dove veramente faranno fatica tutte le altre squadre che andranno a giocare da qui alla fine del campionato. Ripetevo come dicevo prima, Napoli è rimasto di nuovo in lotta per lo Scudetto, domani sera ha il 60-50-50, 60-40 di possibilità di passare la qualificazione quindi penso che criticare in questo momento l'operato di Spalletti e i ragazzi sia veramente indecoroso e ingiusto nei confronti di questa squadra. Nicola c'è Donato che ci fa la domanda che poi abbiamo parlato nella prima parte, Raffaele più o meno già ha risposto, te la faccio Donato ci chiede secondo voi perché Spalletti ha cambiato modulo, era soltanto perché aveva pochi uomini in certe posizioni del campo e quindi ha dovuto fare un po' di necessità a virtù, ha provato ad inventarsi questo 3-4-2-1? 3-4-2-1? Ma credo di sì perché ha dato dimostrazione che quando gli uomini c'erano al di là di chi fossero ha sempre optato per il 4-2-3-1 quindi il cambio di modulo è sicuramente derivante il fatto che se avessero giocato tutti i due centrocampisti con Zelischi sotto punta poi in panchina non avrebbe avuto soluzioni in caso di necessità, quindi mettersi a specchio o quasi come giocava il Cagliari penso che sia stata una necessità più che una volontà di voler cambiare. Detto questo il Napoli a me non è dispiaciuto sotto l'aspetto della volontà, della voglia di poter fare qualcosa, si poteva sicuramente fare di più ma questo lo si può fare in tutte le situazioni. Credo che un po' più di personalità da parte di qualche giocatore ci se lo aspettava perché era la partita dove si poteva di nuovo tornare in vetta però ripeto il Cagliari ha messo agonismo, ha messo intensità e il Napoli sinceramente così come è successo con il Barcellona nel secondo tempo e così come è successo con l'Inter soprattutto nei secondi tempi sta un pochettino calando, non avendo la possibilità di attingere dalla panchina credo che sia stato quasi obbligatorio che Napoli andasse in difficoltà e sopperisse sotto il lato fisico e quindi il risultato maturato penso che sia un ottimo risultato che ripeto mantiene Napoli a tiro per la corsa a Scudetto. E allora ti lasciamo allenare Raffaele, lo lasciamo... Dove sei? A Ischia? No, no, finito, siamo al Kennedy, siamo al Kennedy, a fine di farmiamento. Ma sapessi io quanti tornei intersociali ho fatto al Kennedy, mamma mia. Sì, sì. Ma ho fatto tanto... Abbiamo appena finito, vedo il cognato che la io qua dietro mi fa sì che devo andare a fare la doccia e andare a mangiare. Brava, ne andate a mangiare, salutacelo, salutacelo. Ma dove va? Al pub dove lo incontrai qualche sera fa? Ah, andate lì? Bravo, bravo, andiamo lì. E poi domani sera saremo allo stadio per fare anche noi la nostra parte, ripeto. Ci crediamo, ci crediamo. Bravo Nicola. Salutaci Calaiò, il grande Calaiò. Va bene. E salutiamo il grande Nicola Mora. Non mancherò un abbraccio. Ciao Nicola, grazie. Grazie per la tua grande disponibilità. Grazie a Nicola Mora che insomma era come abbiamo visto in campo praticamente. Ti faccio questa domanda, poi andiamo in pubblicità, apriamo le linee, anzi lo dico già ai nostri amici da casa, chiamateci 506-7764 perché questa è una domanda interessante. La fa Luciano. Caro Raffaele, Spalletti dice che il Napoli non è fisico e aggressivo. Ed è vero. Ma ha un suo gioco fatto di scambio di palla. È così. Chiedo a Raffaele come la pensa su questa affermazione? Il Napoli non dovrebbe invece essere famelico come Osimen? Ma sono due cose diverse. Si può essere famelici e aggressivi pur non avendo il fisico. Io non ho il fisico eppure quando giocavo a calcio ero famelico e aggressivo. È una questione di carattere. Che non lo giocavi? Io facevo il mediano alla Tardelli. Ah, caspita. Era il mio idolo Marco Tardelli quindi mi piaceva... Giocare in quella posizione. Si, si, scorazzare e inserirmi. Se tu prendi Osimen e lo vai a clonare, il Napoli diventa una squadra imbattibile. Per l'aggressività agonistica che lui ci mette, tu basta vedere quando ha segnato e andato di corsa a prendere il pallone e a portarlo al centrocampo perché voleva ancora vincere dalla partita. Pur avendo segnato a cinque minuti dal termine. Quindi quello ti fa la differenza. Se tu ce l'hai, riesci a superare anche ostacoli apparentemente insormontabili come il Barcellona. Bene. Allora, tante domande ancora da leggere. Apriamo le linee come dicevamo. Andiamo un attimo in pubblicità. Torniamo. Abbiamo ancora mezz'ora da vivere insieme con le vostre telefonate, i vostri messaggi e ancora un po' di situazioni legate proprio a Napoli-Barcellona. E allora, pubblicità e torniamo. Club Napoli Night, terza parte di mercoledì. Vi ho già, come detto, ribadito che ci sarà l'appuntamento poi normale giovedì prossimo. Allora, buonasera Francesco. Partita difficile e delicata. Il Barcellona si è ripreso subito dopo il vantaggio del Napoli con il Parigi. Io mi aspetto un Barcellona, dice Luigi, che ti saluta, subito in attacco, che vorrà fare bottino pieno. Il Napoli, visto a Cagliani, mi dà una brutta impressione di essere anche un po' stanco. Che ne pensa Raffaele? Ma soprattutto in balia di una non personalità di alcuni calciatori. Questo sì, questo lo abbiamo sempre detto. Altrimenti il Napoli non avrebbe perso le partite contro Spezia ed Empoli. Sulla stanchezza io no, non sono dello stesso avviso, anche perché in queste partite tu la stanchezza te la dimentichi completamente, ammesso che ce l'abbia. È una partita che entrambe le formazioni vorranno vincere entro il novantesimo, per non prolungare la stessa, perché ai supplementari ai rigori poi può succedere veramente di tutto. Mi aspetto veramente una grande gara. Anche se sia di Lorenzo che Spalletti hanno detto speriamo di chiuderla nei novanta minuti. Sì, l'ho sentito. Secondo me pensando poi anche alle sfide Lazio e Milan che verranno. Però come hai detto tu... Anche il Barcellona la vuole chiudere nei novanta minuti. Va bene, va bene. Allora, telefonata, pronto? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciro, vai. Sì, un saluto al direttore e un saluto a Raffaele. Vai, vai Ciro, vai. Allora, diciamo che prima si è parlato un po' della partita del Cagliari. Va bene, forse per me è la più brutta prestazione. Io penso che il mister ci può stare che ha sbagliato il modulo. Però io diciamo che io mi sono messo le mani nei capelli. Quando sull'1-0, non lo so se voi avete negli occhi questa azione, stava 1-0 in Cagliari. E quando è messo a campo da solo, dalla palla praticamente a Zoa, Petro, e per il miracolo di Ospina non andiamo sotto di 2-0. Secondo voi. Allora, se l'avete vista questa azione. Eh beh, sì, ci ricordiamo. Un passaggio all'indietro, se non ricordo male. E allora, io quando sento, dicendo nel pomeriggio, come il direttore ha detto, ha detto che sembra che da voci Spalletti non faccia giocare Mertens per una questione contrattuale. Io rido quando sento queste cose, perché con tutti i rispetti ha fatto vedere Spalletti perché gioca poco Mertens, bastano i 90 minuti di Cagliari. E sulla questione contrattuale, io penso che Raffaele si è espresso qualche settimana fa, non è un problema di soldi. E se il giocatore è ancora all'altezza o no, per me, che resta la storia del Napoli, il bomber di tutti i tempi, io me lo voglio ricordare quando stava bene. Quando stava bene. Con questo Mertens qui, sinceramente. Ciro, grazie. Forza Napoli, non so cosa ne pensa Raffaele. Eh, lo sentiamo subito. Io credo che Ciro abbia detto delle cose molto interessanti. È vero. Per me è come dice lui. È giusto che a fine stagione il Napoli e Mertens si separino. Si lascino, tra virgolette. Perché vedendolo giocare, si intuisce che nonostante l'impegno che lui profonda, perché comunque Mertens è uno che non si è mai risparmiato quando è sceso in campo. Mai. Nessuna partita. I 90 minuti ce l'ha ancora, poi è chiaro, non è proprio... Se li gioca, non ha la brillantezza. Non ha più la brillantezza, ma questo lo sappiamo. Ora, spero che sia un fatto momentaneo e che possa ritornare ad essere brillante, però negli ultimi tempi non ce l'ha. Tiri in porta di Mertens a Cagliari, zero. Beh, vuol dire qualcosa. No, no, è come, vuol dire assolutamente qualcosa. Non è sempre colpa di chi non ti passa la palla. No. Pronto! Buonasera, buonasera, sono Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonasera a te. Un saluto al mio amico Raffaele Auriello. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo da Crispano. Raffaele. Ciao, buonasera. Ciao. Senti Raffaele, scusami, faccio un breve passaggio sul fatto delle conferenze stampa di Spalletti. Io ultimamente dopo due o tre minuti, cinque minuti massimo, cambio canale perché non l'ascolto più. Non so se forse sono io, non lo so, sono un pezzo perché vedo che alcuni giornalisti in conferenza fanno delle domande mister domani il pubblico può essere importante, mister addirittura uno gli ha chiesto mister ma domani Maradona cosa pensa? Stiamo dicendo poi del numero del paradiso. Sì, due domande che hai detto oggi, che abbiamo sentito oggi, sì. Non lo so, comunque se ne accorgono le persone. Parlando di cose tecniche ti volevo chiedere una cosa, anche a Francesco, però visto che Spalletti ultimamente si lamenta sempre del fatto che la squadra, sicuramente gli esterni d'attacco, non accompagnano l'azione di Ozyman, perché Ozyman è molto più veloce. Diciamo che quando è stato acquistato Ozyman, sia Insigne che Politano e Lozano già facevano parte di questo Napoli. È chiaro, certo. Diciamo che a mio modestissimo parere mi fa capire che questi esterni non si sposano benissimo con le caratteristiche di Ozyman. Ti chiedo, per il prossimo mercato, ne teranno conto, aggiungi le spallette di questa cosa per acquistare i calciatori e a Francesco chiedo, ogni volta che cazzo di Lorenzo a noi ci si gela il sangue, è andato via gli Usai e non abbiamo preso nessuno, ma il Quitta andrà via. L'anno prossimo faremo anche la Champions. Di Lorenzo non potrà fare tutto, ma arriverà una valida alternativa degno di questo nome, visto che si parla sempre del famoso terzino sinistro, ma anche a destra. Ti voglio bene, arrivederci. Grazie, grazie. Vincenzo, rispondi Raffaele alla domanda sugli esterni alti e ti dico che ho fatto la domanda a Di Lorenzo invece sulla spinta, e dopo la sentiamo la mia domanda proprio a Di Lorenzo sulla spinta anche degli esterni bassi per Ozyman. Io non so se veramente questi esterni non si sposano con le caratteristiche di Ozyman. Di sicuro non hanno reso come ci aspettavamo. Insigne, zero gol su azione, Politano mi pare uno, uno, uno. Allora nel momento in cui ti manca Ozyman per 14 partite, tu ti aspetti che gli esterni ti diano una mano in fase realizzativa. Ora non è una questione di si sposo bene o bene con Ozyman, è una questione che riguarda proprio i due calciatori in questione. Perché hanno avuto questo deficit di rendimento? Eh, questa è una bella domanda. Però lo hanno avuto. L'hanno avuto, sì, sì. E non lo hanno risolto. Per ora non si è risolto. Sul terzino a destra ti rispondo, Vincenzo, l'ho detto proprio oggi nel pomeriggio, ho detto noi pensiamo sempre a sinistra, Mario Rui ok, si parla di Olivera che sembrerebbe fatta, però insomma io non credo che il povero Di Lorenzo può farle sempre tutte, anche perché veramente sto ragazzo ha bisogno ogni tanto, casomai di una valida alternativa. Di Lorenzo è il calciatore che in serie ha tra i calciatori di movimento e quello che ha giocato più minuti in assoluto. Non c'è nessuno come lui. In tutta la serie. Incredibile. E così. Allora volevamo sentirlo un attimo, Di Lorenzo che risponde sia sulla fase difensiva, che sulla fase d'attacco alla mia domanda. Vai, vediamo. È un Napoli che domani dovrà lavorare sugli esterni, quindi anche con te, in attacco per tentare di dare buone possibilità agli attaccanti, però bisognerà guardare con attenzione alla difesa. Domani per te sarà una partita non facile. Ma sappiamo che affrontiamo una squadra forte con giocatori importanti per quanto riguarda la loro fase offensiva. Sicuramente hanno giocatori bravi nell'uno contro uno e dobbiamo prepararci a questo duello. Ormai il calcio sta andando verso questa direzione dell'uno contro uno, del duello, quindi bisogna accettarlo e essere pronti per limitare le loro qualità e mettere in campo le nostre. Sicuramente dovremmo fare una partita, dobbiamo vincere, quindi anche noi da dietro dobbiamo cercare di essere più propositivi, di essere più offensivi. In generale chi lotta può perdere e chi non lotta ha già perso, per cui bisogna andare dentro e prendere delle decisioni, perché sennò poi si diventa dei passeggeri dove possono portare il discorso agli altri. Gli altri sono una squadra che vuole comandare la partita, per cui fin da subito c'è da far vedere quelle che saranno le nostre intenzioni se non vogliamo essere costretti ad abbassarci, come diceva lui. Bene, c'era anche un pezzettino di Spalletti proprio a inizio conferenza, la prima domanda dove lui dice che dobbiamo essere bravi. Chi lotta può perdere e chi non lotta ha già perso. Questo è il titolo della conferenza stampa. E poi dice che non vogliamo essere dei passeggeri, insomma, vuole provare a continuare. Enzo da Pompetti saluta, ho sentito parlare di Mario Rui, per me è un ottimo calciatore, l'unico che suda la maglia anche se qualche volta fa qualche errore. Sentendo anche Nicola Mora che è stato un grande, io dico che se il Napoli scende in campo con grinta la possiamo vincere. Vincere, allora Carmine dice che possiamo battere questo Barcellona, allora circola sui social un'infamia sul miglior calciatore del Napoli. Insigne non si mette sul pullman per Cagliari simulando l'infortunio. Perché tanta cattiveria per un campione napoletano? Auriemma, crede lei che Mario Rui sia un professore di calcio? Ho visto e giocato a calcio per 50 anni e più senza aver capito forse nulla, dice Antonio. Io non so se sia un professore Mario Rui. Di sicuro è un esterno sinistro di altissimo rendimento, tra i migliori che circolano in Serie A. Voi lo sottovalutate e poi ve ne accorgerete quando magari arriverà qualcun altro e rimpiangerete Mario Rui. Perché di Tia Fernandez ce n'è uno e ha scelto di andare al Milan. Voi dovete capire che anche se il Napoli individua il profilo più bravo di Mario Rui, poi questo qui deve sempre accettare di venire a Napoli. Non è che te lo prendi, vai lì, lo rapisci e te lo porti da queste parti. Perciò queste sono tutte considerazioni che prima di fare una critica dovreste farle. perché portare calciatori bravi a Napoli non è facile, pure con i soldi in tasca non è facile. No, assolutamente. Poi Antonio diceva il fatto di insigne, perché sempre queste cattiverie verso Lorenzo sta girando? Scusami Antonio, ma tu ti riferisci ai social? Cioè parliamo della pattumiera della nostra esistenza. Lì c'è lo sfogatoio umano di tanta gente che poverini avranno chissà quali frustrazioni della loro esistenza e li scaricano in questo modo, sui social. Emilio D'Angri, poi andiamo al telefono. Buonasera, credo nel miracolo, anche se nel calcio poi tutto è possibile, come se squadre forti puoi fare una grande gara, ma al primo errore ti castigano. Vedi anche l'Inter con il Liverpool. Un abbraccio al mitico Raffaele. Io non credo nei miracoli, Francesco, però domani per superare il Barcellona non servirà affatto il miracolo. Serve soltanto una buona partita da parte di una grande squadra qual è il Napoli. Andiamo al telefono, pronto? Pronto. Il nostro Jenny che è immancabile per la nostra night. Vai Jenny! Buonasera a te, Francesca, buonasera a te. Ciao, ciao Jenny, ciao. Interessante, io parto subito così, come si dice a Napoli, sparato, dai, come fai a sopportare a Cruciani lì? Parliamo del Barcellona, dai, comunque come fai a sopportare a Cruciani? Vabbè, è una domanda così curiosa. Io non lo sopporto, Cruciani. Questa è la grande risposta di Raffaele, non lo sopporto, basta. Bello, schietto. Meno male che non siamo seduti vicino, io sto da una parte, lui sta a 900 km di distanza. Bravo, se no, come diceva Toto, no, se era più vicino... No, se era più vicino non lo sopportavo ancora di più. Ecco. Mi basta di... Vabbè, lasciamo stare questa parete, si è poco felice su questi personaggi. Vabbè, lasciamo. Che danno ambio lustro. La risposta di Raffaele chiude tutto. Continuano a vomitare il loro odio verso Napoli e Napoletani. Parliamo di domani. Parliamo di domani. Domani, ok. Ti ricordi che ti dissi già nel sorteggio che ci dava nel Barcellona, vabbè. Pallina calda. Ma no, Francesco, figurati, io ci ho indovinato, spesso e volentieri, anche quando avevamo il Liverpool e il Real Madrid, se ben ti ricordi. Sì, vabbè, siamo fortunatissimi. Siamo, diciamo, qualifica di mago, perché a lungo andare ci vedo sempre del marcio. Comunque, vabbè, lasciamo andare a stare il tempo che si trovano queste cose. Comunque è una partita... Però scusami, un'osservazione. Tu dici, ci hanno dato il Barcellona con la pallina calda. No, l'ho detto che pallina calda. Come ce l'hanno dato, ce l'hanno dato. Cioè, in pratica sarebbe stata una scelta non casuale, giusto? Pilotata, va. Ma quindi la cattiveria chi l'hanno fatta, al Barcellona o al Napoli? Allora, ti pongo la domanda, perdonami. No, la domanda l'ho fatta io a te, ma la cattiveria l'hanno fatta al Napoli o al Barcellona? Al Napoli, da fare, al Napoli. Perché guarda che pure il Barcellona non è che ha fatto i salti di gioia. Non dubbiamente sì, però il Barcellona è molto più titolato del Napoli. Proprio perché è titolato gli vuole avere una formazione più morbida. Allora la cattiveria l'avrebbero fatta anche al Chelsea quando chiedeva il Napoli, al Liverpool quando chiedeva il Napoli, a Madrid. Sempre noi abbiamo con estremamente squadre forti. I Lampoli lì hanno Young Boys, perfino l'Atalanta adesso ha avuto l'Olimpicos. Non voglio menzionare sempre le squadre che ha la Juve. Io non capisco perché poi dovrebbero penalizzare. Qual è la ragione per la quale... Perché ci devono penalizzare, giustamente chiede Raffaele? Perché siamo cattivi? Siamo sempre lì, allora in Napoli, in Italia e anche in Europa. E non qui in Italia, in Europa. L'Ampoli, fortunatamente siamo in Europa. Ma anche in Europa, non siamo lì in Europa. Allora io sono un mago, che ti devo dire? No, no. Perché ci prendo spesso. Domanda per Raffaele sulla partita di domani. Dai, perché poi c'è poco tempo. La partita di domani, c'è... Tu credi che Spalletti opputerà di nuovo per gli espedimenti di Cagliari? Poi vorrei tornare anche sulla partita di Cagliari. Perché? Su una partita decisiva, anche quella di Cagliari, perché comunque lasciamo a stare decisiva. Napoli non ha fatto il salto di qualità, non lo fa mai, quando abbiamo questo... Allora non ci hai sentito dall'inizio però, caro Geni. No, non ci ho sentito dall'inizio, mi sono collocato 5 minuti fa. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, veloce. Vabbè, grazie Geni, tutto chiaro. Ti risponde Raffaele facendo il riassunto delle puntate precedenti. Ma perché era decisiva la partita di Cagliari? Era la finale per lo Scudetto? No, però intanto ti portava sopra l'Inter e ti pareggiava a Milano. Intanto ti portava a 12 del Daltemi e mica l'hai vinto lo Scudetto. No, è chiaro, non l'avresti vinto certo. Tu con quel pareggio hai guadagnato un punto sull'Inter. Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto. Noi con quel pareggio abbiamo preso un punto all'Inter, che non era facile. Eppure non immaginavamo nessuno che l'Inter perdesse contro il Sassuolo, eppure ha perso. E allora può succedere che perda anche altre volte, di cui alla fine del campionato. Allora, Sergio ti saluta, vorrei porre il quesito sempre sul pareggio di Cagliari. Come ti avevo detto, sono arrivati tantissimi messaggi proprio su questa partita. Perché volevano risposte da te. Un approccio sbagliato, tipico del Napoli, quando è davanti a dei bivi decisivi, oppure ha inciso soltanto la mancanza dei titolari. È un po' e un po'. Quando si vedono queste prestazioni deludenti, non è mai colpa di un solo elemento, ma di tutta una serie di circostanze che non funzionano per caso, perché la squadra entra scarica in campo. Io opto più per questa seconda ipotesi. Gino D'Abbacoli, buona serata, questo Barcellona si può battere, non è il miglior Barcellona degli ultimi anni, quindi perché no? Certo ci vuole un po' di fortuna, ti chiede, assolutamente. Non mi fa paura il Barcellona, ma il Napoli. Non ho fiducia, in alcuni calciatori scrive invece Francesco D'Astriano. Il Napoli ha qualche cosa che secondo te non ci mette in fiducia? La personalità. Io non credo che il Napoli non abbia qualcosa che dia fiducia. Io credo che il Napoli nelle grandi partite difficilmente sbaglia. Poi può pure perdere. Che l'avversario si mostra più forte di te e la perdi. Sempre il Barcellona. Però proprio la partita di domani, onestamente, io mi sentirei di dormire su tre, quattro guanciali tranquillamente. Allora il nostro amico Mohamed, napoletano, ormai trapiantato a Napoli, ma lui della Giordania, dice direttore, caro Raffaele, secondo me passiamo il turno, però con molta sofferenza. Il problema però è dopo, per il campionato, che noi vogliamo lo scudetto. E non ce la facciamo a giocare due volte in settimana. Cioè la paura di Mohamed, se passi il turno, benissimo, siamo tutti contenti, però lui preferisce lo scudetto. Ma io credo che le due cose possano camminare adesso, di pari passo. E la domanda che ti ho fatto l'altra volta, abbiamo la nostra schermata, cioè il fatto che è una vetrina la coppa, oppure è una cosa importante. Se tu superi il Barcellona diventa un obiettivo. E diventa un obiettivo, sì. Perché non hai tante avversarie forti da affrontare, o quantomeno sono del tuo stesso livello. Del tuo stesso livello. Ora che l'organico dovrebbe essere quantomeno al completo, puoi giocare sui due fronti, altrimenti avere le rose così folte ti serve a poco. Io sono sempre dell'avviso che in Europa League la fase a Gironi la devi affrontare con le alternative. Poi da questo momento in avanti, con un organico al completo, puoi pensare a tutti e due gli obiettivi. Dovevamo e potevamo battere i sardi, non l'abbiamo fatto. Speriamo di farlo con il Barcellona, Francesco da Calvizzano, che ti chiede ma è possibile a questo punto giocare con il 4-3-3? Ma non vedo perché. Non credo, il 4-3-3 no. Ma a parte che vai a snaturare una caratteristica della squadra con i due esterni offensivi che nel 4-3-3 fanno fatica, nel 4-2-3-1 il Napoli si è ritrovato meravigliosamente e io penso che sia giusto andare avanti così. Allora, Raffaele, è chiaro che noi siamo proprio in chiusura. Domani c'è il Barcellona e quindi siamo tutti proiettati al Barcellona. Però poi noi ci rivedremo giovedì prossimo quando avremo affrontato anche la Lazio. Quindi ti faccio fare un piccolo passaggio sulla sfida di domenica sera all'Olimpico contro la formazione di Sarri, una formazione della Lazio che non sta vivendo un momento anche loro eccezionale, qualche problemino, anche di infortunio per loro, anche se insomma Pedro dovrebbe aver recuperato, Immobile dovrebbe esserci. Io non credo che Pedro recuperi. No, tu dici di no, insomma ci davano notizie. Mi arrivano questi feedback, però magari mi sbaglio. No, no, figurati, vediamo, vediamo, insomma capiamo nelle prossime ore che cosa succederà. Loro hanno la partita con il Porto, anche loro. È un vantaggio per il Napoli perché anche loro hanno l'impegno. E giocheranno in trasferta, loro... No, giocheranno in casa. Giocheranno in casa, quindi sia il Napoli che la Lazio giocheranno in casa e si rivedranno domenica sera. Sarri contestato a Roma, potrebbe essere questo una, come dire, una sorta di ultima spiaggia a battere proprio il suo vecchio Napoli? Speriamo di no. Tu dici ultima spiaggia per Sarri? Sod che a Roma ha contestazioni fortissime. Da amici laziali che ho sentito in queste ore mi dicono che sono arrabbiatissimi con Sarri. Non capisco perché. Onestamente la Lazio è ancora in corso anche per un po' sui Champions. La Lazio è là, sì, sì. La Lazio è là anche nel girone. E a quattro punti nella zona Champions. Nel girone di ritorno anche loro hanno fatto, proprio come il Cagliari, 12 punti. Ma poi tra l'altro è una formazione che in campionato sta risalendo la china, ha pareggiato con Ludinese in trasferta questo 1-1, ma nelle quattro partite precedenti non aveva subito neanche un gol. Quindi è una squadra che sta cominciando ad avere una sua fisionomia e c'è un altro vantaggio per il Napoli che non giocherà Zaccagni. E sai, oggi nella Lazio Zaccagni è diventato un elemento molto importante. Sì, 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 è vero. Quindi ti aspetti comunque una partita che il Napoli deve fare sua. Oggi il Napoli è più forte e deve andare a Roma con la convinzione di farcela anche con una certa semplicità. se tu riesci a prendere il gioco in mano, la Lazio fa fatica nel filtro di centrocampo. Lì, purtroppo, Sarri non ha il Giorginio della situazione neanche l'Allan dei bei tempi del Napoli e quindi con un centrocampo composto da Milinkovic, Savic, non so se ci sarà, penso di sì, Luiz Salberto, sono due elementi che spingono più che proteggere. Allora, Raffaele, non ti chiedo pronostici per domani sera. Intanto questo è sempre, vedi, si sta assottigliando questo calendario di fuoco anche se dopo il Milan c'è anche il Verona che non è certo una partita facilissima. a Verona, infatti la metteremo nelle prossime puntate. Questo è quello che dice il calendario. Domani Napoli-Barcellona, domenica Lazio-Napoli, domenica 6 marzo alle 20.45 Napoli-Milano-Albaradona. Non ti chiedo pronostici per domani, ti chiedo chi può essere il giocatore clou. Chi ti aspetti che può dare una mano in più. Sempre lui. Vittorio Simen. Sempre lui. Lui è il crack di questa squadra. e gli manca il gol contro una big, chissà che non accada proprio domani. Però gli devi servire la palla. Tu avevi, proprio la settimana scorsa, hai detto qualche passaggio non gli arriva felice. Non è che gli devi servire bene la palla. No, no, nel senso gliela devi dare. Poi sarà lui a risolvere il problema, pure se gliela dai male. Però rifornite Oseman. Ecco, rifornire tanto tanto Oseman in modo da poter andare a giù. Prima o poi il gol lo fa, perché lo trova la soluzione. Ce l'auguriamo. E allora, io ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Davide è in regia, la squadra redazionale con Diego Marino, con Raffaele D'Antonio e con Alberto Caccia, che ci hanno aiutato anche in questa puntata. Tutta la squadra di Club Napoli News. Domani, lungo appuntamento, si parte alle 3, pre-partita, poi alle 8 dopo il TG, nuovo pre-partita, e poi subito dopo il match, il post-gara. Grazie Raffaele Auriemma, buonanotte Raffaele. Ciao Francesco, buonanotte a tutti. E grazie a tutti voi ancora che ci avete seguito. Appuntamento con Club Napoli Night, giovedì prossimo, domani con Club Napoli News. Lungo pre-gara per la sfida del Maradona tra Napoli e Barcellona. Forza Napoli e ciao!